Benvenuti a Il Verde e Il Blu, che è oltre a essere il nome di un festival, l'ultima edizione è stata a ottobre qui a Milano. E' anche una miniserie dedicata a questi due colori che rappresentano la sostenibilità, il verde e l'innovazione, il blu. Vogliamo parlare in questa puntata di verde e lo facciamo partendo anche da quello che è accaduto poche settimane fa con la COP28 di Dubai. Ma vi presento subito i nostri ospiti con cui parleremo di questi temi. Vi presento Filippo Bettini, Chief Sustainability and Risk Governance Officer di Pirelli. Benvenuto. Benvenuto anche a Carlo Cape, amministratore delegato di BIP. Buongiorno a tutti. Benvenuto a Sara Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion e Bigger Picture di Sky Italia. Grazie Alberto, bentrovati. E in collegamento dai nostri studi di Roma, Stefano Donnarumma, CEO e Founder di Donnarumma & Partners. Benvenuto. Bentrovati. Allora, partiamo subito appunto dalla conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si è conclusa a Dubai e si è conclusa con un accordo che in molti hanno definito storico perché per la prima volta viene messo nero su bianco un riferimento all'addio alle fonti fossili. Sara, che giudizio dai di questa conclusione? Diciamo che viene messo nero su bianco una transizione verso l'addio, non un vero e proprio face out come in tanti speravano. C'è da aggiungere però che visto la piega che aveva preso il dibattito negli ultimi giorni di trattative questo è stato considerato un risultato, come dicevi anche tu, in qualche modo storico anche se in quella locuzione della transizione sta anche tutta la sua debolezza. Era difficile ottenere di più, ricordiamoci, dove si è svolta questa COP e comunque stiamo parlando di Dubai, uno degli emiri ovviamente uno degli emirati che si trova proprio in quella che da sempre viene considerata la penisola, la banca mondiale del petrolio perché lì si trova la maggior parte delle riserve petrolifere rispetto a quanto hanno altri paesi sappiamo anche quali erano gli interessi in gioco e quindi possiamo dire che sicuramente una transizione è un risultato portato a casa che cosa significherà poi una transizione come hanno detto loro sostenibile e ordinata perché anche questa espressione, questo aggettivo ordinata si presta a tante interpretazioni diverse ordinata cosa significa? Che come chiedono i paesi in via di sviluppo non siano loro a pagare il conto uguale ai paesi invece che bruciano idrocarburi da 200 anni, che poi è questo uno dei grandi temi cioè quanto i paesi che hanno ormai delle economie compiute, affermate debbano sostenere anche la transizione di chi si è affacciato al bruciare idrocarburi più tardi perché ricordiamoci che oggi è vero che la Cina ha emissioni doppie rispetto agli Stati Uniti ma se andiamo a vedere quelle pro capite, gli Stati Uniti, gli americani hanno il record imbattuto perché? Perché anche se noi stiamo discutendo da tanto tempo di questo tema pensiamo agli accordi storici, alla prima conferenza sul clima a Rio de Janeiro passando per Parigi o altro, la verità è che noi ogni anno non stiamo riducendo le emissioni stiamo discutendo di quando le ridurremo ma adesso siamo ancora in una fase di crescita delle emissioni quindi sicuramente c'è un tema che andrà affrontato anche nel capire questi impegni poi come si potranno concretizzare e soprattutto l'interrogativo e come avverrà questa grande mediazione fra i paesi ricchi e i paesi che hanno delle economie emergenti o che sono già emerse ma che comunque sono molto più giovani e quindi rivendicano anche un diritto ad emettere in qualche modo stanno continuando ricordiamoci molti paesi ma anche la Cina a costruire centrali a carbone quindi in realtà questa transizione potrebbe essere molto lenta in alcuni paesi sappiamo che noi in Europa siamo invece campioni, abbiamo sempre assunto degli impegni e voluto fare la nostra parte in termini anche di target ambiziosi ma ricordiamoci che ormai nello scacchiere mondiale l'Europa rappresenta il 9-10% delle emissioni complessive Ecco, Capè, giustamente Sara Varetto ricordava questa formula transition away che è un po' più blanda rispetto a un netto phase out ricordava il posto dove si è tenuta questa conferenza e la difficoltà anche di tenere insieme perché questo era il punto 198 paesi e trovare un accordo con questa formula del transition away qual è il suo giudizio? Ma noi dobbiamo considerare che la prima coppa a Parigi è stata quasi dieci anni fa e che da allora la temperatura ha continuato a salire in maniera lineare siamo arrivati oltre a un grado di differenza rispetto al periodo preindustriale quando c'era un posto in obiettivo di non superarlo per lo meno in questo momento, in questo periodo le emissioni e la produzione di nitrocarburi sono continuamente aumentate sempre abbiamo superato i 100 milioni di barili di petrolio al giorno proprio nel 2023 quindi diciamo che questo tipo di linee guida sono molto importanti senza altro danno un indirizzo ma poi la vera attività, la vera azione non possono che farla i paesi con le loro norme ricordiamoci che una coppa non dà norme o meglio dà degli indirizzi oltretutto dà degli indirizzi che sono più restrittivi e più prescrittivi per i paesi maturi l'Europa e l'America e molto meno prescrittivi per i paesi in via di sviluppo abbiamo sentito parlare di, lo chiamano picco, di un momento in cui si dovrà finalmente ridurre la quantità di emissioni che non vuol dire andare a zero lontanamente ma invece di continuare a crescere cominciare a decrescere questo picco è stato in qualche modo segnalato e impostato per i paesi avanzati quindi per i continenti avanzati, cioè per l'Europa e per gli Stati per l'America invece non è stato dato alcuna indicazione, anzi è stato proprio dichiarato che possono essere molto pilaschi e raggiungere un picco anche molto più vicino al 2050, anno in cui si dovrebbe invece andare a zero per i paesi in via di sviluppo quindi diciamo che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista anche noi come BIP abbiamo un osservatorio su questo tipo di eventi e di linee guida, di normative c'è una soddisfazione parziale, di sicuro si è parlato del ritorno al nucleare anche se in maniera un po' marginale, di sicuro si è parlato di triplicazione delle rinnovabili che è molto importante ma ricordiamoci che la produzione dell'energia elettrica oggi e il consumo di energia elettrica oggi rappresenta nel mondo meno del 40% dei consumi totali di energia tutto il resto sono idrocarburi quindi non si passa solo attraverso l'elettrificazione delle fonti della produzione ma bisogna passare attraverso anche l'elettrificazione dei consumi su questo c'è stato quindi passare a utilizzare il trasporto più sostenibile c'è stato anche un affondo sui trasporti quindi non solo sui sistemi energetici ma anche sui trasporti anche lì con delle linee guida abbastanza importanti da un punto di vista comunicazionale e politico di andare, di transizionare anche nei trasporti verso trasporti con combustibili sostenibili o elettrici quindi diciamo che in generale politicamente è un risultato apprezzabile concretamente servirà un impegno forte dei paesi Donnarumma, vengo da lei perché c'è una questione che riguarda i tempi ovviamente l'obiettivo è il 2050 ma il grosso del lavoro ci dice la scienza dobbiamo farlo già entro il 2030 vorrei chiederle allora a che punto siamo con questa transizione? Ma guardi dottore nel 2030 l'obiettivo europeo si traduce a livello italiano per rimanere nel nostro paese si traduce nel raggiungimento di una copertura del fabbisogno energetico maggiore o uguale del 65% da fonti rinnovabili consideri che negli ultimi pochi anni diciamo noi siamo nell'intorno del 35% quindi bisogna salire di circa il 30% per fare questo è stato determinato il numero di gigawatt ora e il numero soprattutto di gigawatt in potenza da installare in Italia in energia rinnovabile per poter raggiungere un obiettivo del genere e questo numero si aggira nell'intorno di una crescita di circa 60-70 gigawatt aggiuntivi rispetto ai circa 35-40 che oggi sono installati consideri che questo significa poiché parliamo principalmente di fotovoltaico come numero diciamo importante significa crescere ad un ritmo di 6-7 gigawatt all'anno quando mediamente fino all'anno scorso il ritmo era di un gigawatt all'anno questo significa ovviamente rendere disponibili sia in termini di itero autorizzativi sia in termini finanziari ma poi anche di esecuzione delle opere e quindi diciamo arrivare all'impianto chiave in mano che può produrre oggettivamente energia significa mettere in moto un volano di attività economiche, industriali e di pianificazione che oggettivamente il nostro paese fino a questo momento non ha ancora mai visto negli ultimi due anni ci sono state importanti accelerazioni io ricordo che nel mandato mio come amministratore delegato della Rete Elettrica Nazionale di Terna tra il 2020 e il 2023 il quantitativo di progetti presentati per la connessione a Terna è aumentato di almeno 10 volte questo significa che l'interesse oggettivo anche da parte degli investitori è stato molto forte il quantitativo di potenza installata in realtà è aumentato di 3-4 volte nel senso che si è passata da un gigawatt a circa 4 o giù di lì è chiaro che lo sforzo è in mane significa mettere in atto una serie di accorgimenti che un po' investono tutti i livelli di responsabilità da quelli diciamo amministrativi locali e anche centralizzati che riguardano l'aspetto autorizzativo e va anche detto che negli ultimi anni ci sono state diverse decisioni di carattere normativo e legislativo che hanno oggettivamente creato un'accelerazione nel contempo serve avere la capacità della filiera per realizzare e qui si apre un grande capitolo quello della filiera, della supply chain quindi della catena del valore che in Italia purtroppo oggi registra un gap molto molto importante e non solo un numero per dire che rispetto agli investimenti che servono nei prossimi 6-7 anni che ammontano indicativamente a 100 miliardi di euro se contiamo tutto, l'elettrificazione, le installazioni rinnovabili, le batterie di accumulo sono almeno 100 miliardi 100 miliardi significa circa 12-15 miliardi all'anno oggi questo tipo di attività viene coperto quando parliamo di industria italiana da un numero almeno superiore ai 400 soggetti commerciali e industriali che hanno indicativamente un valore della produzione che va nell'intorno dei 25-30 milioni e uno che è un effetto oggettivamente del tipico nanismo diciamo di industria italiana che ha una sua grande forza, la sua flessibilità, la sua capacità inventiva, creativa e realizzativa ma ha una sua debolezza che è il volume chiaro Bettini vengo da lei perché sappiamo che è importante anche il ruolo dei privati in questo processo vorrei chiederle qual è la vostra roadmap per la decarbonizzazione come intendete anche affrontare il tema in senso più ampio guardando anche la tutela della biodiversità e della natura Certo, noi siamo qui oggi nel ruolo di attuatori, di esecutori di questo programma verso la neutralità e una considerazione di carattere generale proprio nel ruolo che viene demandato all'impresa rispetto agli altri ruoli abbiamo da una parte dei fattori enzimatici che vedono i governi e le amministrazioni chiamati a legiferare, a regolamentare il percorso verso la decarbonizzazione il nostro contributo è un contributo fondamentalmente in innovazione che poi deve avere invece gli strumenti finanziari per poter essere ragionevolmente attuato quindi obiettivo di imprese come la nostra che producono e trasformano materia prima in prodotto finito è dotarsi degli strumenti di innovazione e di processo che consentono una riduzione importante delle emissioni anche se non solo di emissioni di CO2 dovremmo parlare in termini di lotta al cambiamento climatico tali da cominciare a controllare le emissioni che derivano da quanto facciamo in casa nostra quindi nella fase di produzione ma guardando come diceva poco fa Donna Rumma ha maggior ragione le emissioni della catena di fornitura upstream che molto spesso hanno un peso più che proporzionale rispetto alla fase puramente di trasformazione della materia prima in prodotto finito un'azienda come la nostra, un'azienda che si ha dato degli obiettivi molto chiari di raggiungimento di una carbon neutralità già al 2030 con un ricorso a energia elettrica totalmente rinnovabile già entro il 2025 tutto il mondo in tutti gli stabilimenti dove operiamo siamo già totalmente rinnovabili in Europa e negli Stati Uniti e con un analogo programma che cerca di fare leva nei confronti dei fornitori quindi dalla catena di fornitura perché anche la catena di fornitura si prende degli impegni degli impegni che devono essere certificati e standardizzati e valutati certificati da elementi terzi come il Science Based Target che è il modello oggi di riferimento per darsi una roadmap consistenza robusta di decarbonizzazione da qui al 2030 e di net zero da qui al 2050 Sara, poi parleremo anche dei nostri impegni come Sky però intanto abbiamo visto l'importanza dei decisori politici di quello che fanno, l'importanza dei privati e ci sono anche i comportamenti individuali in che modo e se e quanto impattano? I comportamenti individuali sono fondamentali che poi tu dicevi parleremo dei nostri impegni ne parleremo più tardi però ricordiamoci che con la nostra campagna Sky Zero noi cerchiamo anche di incentivare facendo sentire la nostra voce quelli che sono i comportamenti a cui tu Alberto facevi riferimento poco anzi comportamenti virtuosi che possono riguardare il modo in cui ci spostiamo sappiamo benissimo che ormai abbiamo accesso a tante informazioni anche sul nostro portale Sky Zero ce ne sono altre tante per sapere come spostarsi per avere la minor quantitativa di emissioni che cosa mangiare perché non ci dimentichiamo che anche l'alimentazione è fondamentale ormai abbiamo visto ci sono tanti tanti studi che dimostrano come un'alimentazione che fa bene all'ambiente fa bene anche alla nostra salute quindi in realtà le due cose non sono in conflitto e poi soprattutto che una vita sostenibile non è una vita triste anzi in realtà ci si può continuare a comportare non dico come prima ma continuare a fare tutte le cose che facciamo prima solo farle in un modo più attento rispetto all'ambiente ci sono tante regole che riguardano quello di camminare quello di muoversi quindi in un modo più sostenibile e ancora una volta anche nel modo in cui ci spostiamo da casa verso l'ufficio o altro se lo facciamo per esempio utilizzando mezzi pubblici andando a piedi o altro ancora una volta come per l'alimentazione ricordiamoci il comportamento che fa bene all'ambiente fa bene anche a noi e alla nostra salute e noi come Media Company ci siamo anche assunti questo ruolo di essere anche coloro che fanno sentire la propria voce lo facciamo lo sai attraverso i nostri contenuti abbiamo un canale Sky Nature che è dedicato non soltanto a quella che è la natura in un senso classico documentaristico ma abbiamo tanti contenuti che raccontano proprio il cambiamento climatico il lavoro che fa Sky TG24 tu sei stato adesso proprio a Dubai alla COP28 abbiamo visto le tue cronaca da lì ci ha aiutato a capire anche come per esempio c'è un altro pezzo che non abbiamo ancora raccontato e c'è il fatto che guarda caso è perché eravamo a casa di paesi che producono tanti idrocarburi però si è parlato anche delle tecnologie che permettono di riassorbire la CO2 che è stata immessa quindi non ci dimentichiamo di nessuno degli aspetti che purtroppo è un problema complesso e quando la complessità governa allora non basta, non c'è una sola soluzione ma ci sono tanti tasselli e sicuramente quelli più tecnologici e quindi anche il green e il blu senza il blu non si riesce a fare neppure il green useremo tutte le tecnologie ma a volte è anche importante soffermarci su quelli che sono i nostri piccoli gesti quotidiani non utilizzare la plastica abbiamo fatto una campagna noi alla salvaguardia degli oceani per combattere l'uso della plastica monouso perché la plastica non va demonizzata la plastica è un ottimo materiale ma va usata anche questo nel modo giusto quindi usarla poco quella che poi getto via subito riciclare il più possibile e quindi avere dei comportamenti che siano responsabili sono piccoli gesti che ancora una volta come dicevo prima non cambiano la vita in peggio anzi semmai in meglio ci fanno stare anche meglio di salute e allora Cappè sulla scia di quanto ha appena detto Sara guardare nell'ottica giusta questo percorso quali sono le opportunità in un percorso verso il net zero? è un percorso molto articolato che non può essere guidato solo da una delle leve la dottoressa Varetto adesso ha citato il comportamento individuale che sicuramente è molto importante è stata citata anche la cattura della nitride carbonica che è molto importante sono state citate le rinnovabili ma il percorso è un percorso molto articolato che richiederà l'utilizzo di moltissime linee guida vi faccio solo un piccolo esempio sull'Italia ma gli altri paesi del mondo non sono molto diversi l'Italia oggi utilizza circa l'80% di fonti fossili quindi vuol dire che solamente il 20% è energia elettrica rinnovabile che arriva dal sole o dal vento tutto il resto è energia fossile poi ai consumi finali parte di questa energia fossile viene trasformata in energia elettrica e quindi abbiamo un 65% di consumi finali che vengono dal fossile e un invece 35% che viene dall'energia elettrica bene allora cosa vuol dire che se noi lavoriamo sulle rinnovabili sostituendo energia prodotta dal gas con le centrali a gas con energia rinnovabile lavoriamo solamente sul 35% del nostro problema e quindi possiamo andare a spingere i rinnovabili a occupare quasi tutto la produzione di energia ma non abbiamo risolto il problema rimane un 65% di problema ancora aperto come facciamo? qui abbiamo i consumi industriali i consumi dei trasporti soprattutto in quel 65% la maggior parte sono trasporti che vanno ancora a petrolio o a gas e i consumi domestici su cui dobbiamo agire come dobbiamo agire? con tre leve la prima è cercando di elettrificarli naturalmente quindi invece di usare le caldaie a gas usare le caldaie elettriche quindi le pompe di calore invece di usare i veicoli a gas o a petrolio usare i veicoli elettri oppure veicoli con combustibili che non emettano CO2 quindi ci sono combustibili sintetici ci sono vari tipi di combustibili la cosa più complicata naturalmente è l'industria un alto forno che produce acciaio non potrà mai sarà molto difficile che vada elettrico e quindi lì dovremmo andare usare altre fonti l'idrogeno piuttosto che il biometano e così via bene questo è un tema questo tema questa parte del mondo è anche agevolata dalla riduzione dei consumi naturalmente perché comprimo il problema dall'altra parte però c'è poi la produzione la produzione che oggi viene fatta la produzione comunque l'immissione di petrolio nel nostro mondo di trasporti nel nostro mondo dell'industria dovrà a sua volta trasformarsi in qualcos'altro e quindi qui entrano altre fonti di energia che possono spingere le navi come l'idrogeno oppure l'idrogeno liquido oppure fonti di energia che possono produrre energia e quindi spingere molto l'energia valle come il nucleare abbiamo citato il nucleare è emerso anche alla COP28 di sicuro il nucleare di quarta generazione o alcune nuove tecnologie di nucleare che seguono la fusione invece della fissione sono molto più puliti e molto meno rischiosi quindi l'insieme di tutti questi elementi è solo l'insieme è solamente l'utilizzo comune per ogni paese diverso quindi in Italia avremo un mix in altri paesi ci sarà un mix diverso potrà portare a quella che viene chiamata giustamente una transizione non sarà un passaggio veloce ma sarà una transizione Donnarumma in tutto questo c'è una sfida che è quella delle infrastrutture come affrontarla? guardi la sfida delle infrastrutture è la vera sfida perché l'Italia ad esempio è un paese ma non è un tema solo italiano potremmo parlare della Germania che è all'inverso diciamo del problema la Germania deve portare energia dal mare del nord verso il sud perché nel mare del nord lo produce con l'eolico tra l'altro diciamo in quantità veramente molto importanti e infatti ha un piano che vale più o meno 4 miliardi di infrastrutturazione all'anno per i prossimi anni per portare con le reti di alta tensione l'energia verso il sud noi facciamo esattamente il contrario l'energia in Italia nasce dall'idroelettrico nelle Alpi e Prealpi e scende verso il sud oramai la maggior parte dell'energia rinnovabile viene prodotta nel sud Italia e deve risalire verso la pianura padana dove ci sono le grandi aziende che ovviamente evidentemente sono energivore questo significa grandi piani di infrastrutturazione il piano nazionale di sviluppo che è stato coordinato e concordato dal Ministero dell'Ambiente dell'Energia la Rera e Eterna l'ultimo piano presentato proprio dal sottoscritto a marzo scorso vale 21 miliardi in 10 anni di investimenti ma è una parte del tema ma io se mi permettete mi date un minuto voglio rappresentarvi quanto questo tema è veramente delicato è poco approfondito dalla maggior parte degli attori consideriamo il trasporto elettrico consideriamo le automobili elettriche consideriamo una città come Roma con circa 3 milioni di persone dove ci si può immaginare a un certo punto migliaia e migliaia di automobili completamente alimentate elettricamente queste vanno caricate vanno caricate con delle colonnine a ricarica veloce a un certo punto perché altrimenti non avrebbe senso questo tipo di trasporto e questa mobilità una colonnina a ricarica veloce può valere anche 200 kilowatt se andiamo a metterne mille o duemila e dovessero funzionare tutte contemporaneamente più o meno abbiamo il 10% dell'assorbimento della città oggi nei momenti di picco estivo a luglio se avessimo un picco del più 10% rispetto al massimo la rete difficilmente potrebbe reggere perché evidentemente è strutturata per un consumo e per un assorbimento che negli anni si è evoluto in un certo modo con una curva di accelerazione come questa le reti non reggerebbero quelle cittadine ad alta densità servono quindi miliardi di investimenti ma è molto difficile farli perché bisogna sventrare la città per fare questo 30.000 km di rete a Roma significa sostituirne mille all'anno per inseguire la vita utile degli impianti mille chilometri sono un miliardo e significa avere tantissime strade sventrate cantieri e quindi un disagio enorme con queste cose bisogna fare i conti quando si fanno i programmi energetici per evitare di raccontare storie che poi non si realizzano nei fatti Bettini c'è poi l'importanza dell'impegno sulla catena di fornitura che vi riguarda ad esempio certo noi ne siamo particolarmente toccati pensate che nel settore di produzione dei pneumatici i livelli di fornitura della materia prima della gomma naturale con prodotto naturale che utilizziamo nelle mescole dei nostri pneumatici a nove livelli di fornitori partiamo dal piccolo contadino indonesiano che nel proprio etero di terra con la famiglia coltiva la pianta dell'albero della gomma per arrivare fino a noi allora lungo tutto questo percorso il grande impegno e la grande sfida è concordare delle modalità di approvvigionamento che non solo tutelino gli aspetti di natura ambientale e climatica ma anche quelli sociali che oggi non sono oggetto dell'approfondimento nostro ma che sono ugualmente importanti allora anche lì l'obiettivo che un'azienda come la nostra si è presa è quello di darsi dei target di miglioramento di riduzione dicevamo prima delle emissioni di CO2 di quello che è lo scope 3 che concorre alla nostra fotografia emissiva e utilizzando dei sistemi di certificazione che assicurano che lungo tutto questo percorso di nove livelli l'aspetto emissivo e anche l'aspetto sociale sia adeguatamente controllato lo facciamo anche in questo caso ricorrendo a sistemi di certificazione che ci hanno visto essere la prima azienda a immettere sul mercato preumatici certificati certificati FSC per quanto riguarda proprio la catena di fornitura della gomma naturale e del Ryan Capè vengo da lei perché vorrei chiedere quali sono i passi per una transizione che sia sicura accessibile e sostenibile noi dobbiamo ricordarci che la sostenibilità è la sostenibilità in senso lato non è solo la sostenibilità ambientale c'è anche la sostenibilità sociale la sostenibilità economica il motivo per cui parliamo di transizione e non possiamo fare dei salti quantici immediati passando dall'oggi al domani a un sistema totalmente carbon free è proprio legato alla sostenibilità economica quindi ci sono le imprese che dicono rallentiamo perché non possiamo fallire se falliamo poi non serve a niente il nostro pianeta naturalmente i giovani che dicono scusa il pianeta è molto più importante a me che tutte le imprese falliscono c'è un'impresa niente l'importante è che il pianeta non bruci in realtà sono due cose che devono andare insieme l'abbiamo visto durante la pandemia durante la pandemia c'è stata una crisi di salute ma c'è stata anche una crisi economica importante che ha messo in ginocchio famiglie piccole imprese e quindi come dire ci sono vari modi per non essere sostenibili e quindi noi dobbiamo lavorare in maniera integrata questa è la vera sfida ed è una sfida che non è solo a livello di COP28 o a livello di paese è una sfida anche a livello di azienda quando il dottor Bettini quando il sottoscritto quando l'ottore Savaretto parliamo di sfida a fare zero emissioni nel 2030 o nel 2040 vuol dire che tutti noi con le nostre aziende ci siamo impegnati a ridurre non solo le nostre emissioni ma anche quelle dei nostri fornitori e questo ovviamente ha un impatto economico importante quindi noi dobbiamo fare quadrare i conti mantenendo però un occhio alla sostenibilità del pianeta quindi questa è una sfida una delle sfide più importanti che credo nella storia dell'umanità siamo costretti ad affrontare Donnarumma lo accennava prima le chiedo e chiedo anche se può essere sintetico nella sua risposta alla criticità della supply chain in Italia se ci può spiegare meglio ma guardi banalmente per realizzare ad esempio tutti gli impianti fotovoltaici che noi di cui necessitiamo come oramai ben noto la fornitura di tutte le componenti dai pannelli agli inverter a gran parte insomma di quanto necessario viene sostanzialmente dalla Cina dove hanno fatto passi da gigante non solo in termini tecnologici ma soprattutto in termini di volume produttivo abbiamo diverse aziende valide in Italia però ad esempio abbiamo una certa scarsità di manodopera specializzata perché sempre di meno i giovani italiani si dedicano a questo tipo di attività bisogna trovare un modo di aumentare alimentare questa filiera anche da questo punto di vista cioè sostanzialmente nella maggior parte dei casi i programmi che vengono ipotizzati su carta subiscono poi dei ritardi importanti per questa incapacità di reggere il ritmo ci vuole aggregazione bisogna creare volume critico grazie all'aggregazione delle imprese questo credo che sia una missione molto importante per il nostro paese Bettini c'è anche il tema della circolarità quanto è importante nel vostro settore è un processo in continua evoluzione anni fa pensavamo noi azienda produttiva a seguire il prodotto dalla culla al mercato poi siamo evoluti ad una nuova fase quella di seguire il prodotto dalla culla alla tomba per un pneumatico significa acquisire il materiale produrre seguire la fase d'uso e poi occuparsi del recupero del pneumatico dopo i 40.000 km percorsi su strada oggi il processo è un processo che tende a chiudersi dalla culla di nuovo alla culla quindi recuperando il materiale esausto di un pneumatico finito con l'obiettivo e questa è la grande sfida ancora una volta una sfida tecnologica una sfida che punta tutto sull'innovazione di recuperare della materia prima seconda che possa essere gradualmente utilizzata per produrre nuovi pneumatici garantendo come è il caso di un'azienda col nostro profilo i criteri di eccellenza e di qualità e di performance che un pneumatico nuovo deve dare è un progetto su cui abbiamo dei target ci siamo presi dei target di medio e di lungo periodo nel far crescere la quota di materiale rinnovabile che utilizziamo nei nostri pneumatici e ancor più la quota di materiale riciclato proprio per chiudere questo ciclo virtuoso che è la base del processo sostenibile di gestione d'impresa Sara visto tutto quello che ci siamo detti fino ad ora e visto l'attualità insomma vale la pena forse più che mai ricordare anche il nostro impegno con la campagna Sky Zero con la campagna Sky Zero abbiamo preso l'impegno di più che dimezzare le nostre emissioni entro il 2030 ma non soltanto quelle dirette ma come si citava Pocanzi anche quelle indirette quindi riguarda anche il tema i nostri fornitori ma anche quanto consumano i nostri prodotti a casa dei nostri clienti dei nostri abbonati un impegno che portiamo avanti anche come media company facendo sentire la nostra voce come dicevo Pocanzi e diciamo che questa è una parte che ci riesce particolarmente facile da una parte trasformiamo il business con i costi che ricordava Pocanzi che sono importanti ma dall'altra parte abbiamo la fortuna di essere presenti ad eventi come i Gran Premi penso all'ultimo di Monza o penso ancora alle ATP Finals di Torino dove era presente anche Sky Zero dove abbiamo potuto fare campagna con tutti coloro che passavano e che partecipavano a questi eventi sportivi coinvolgerli quindi in un modo fammi dire più facile più leggero lo stiamo facendo anche con Sky Up il nostro progetto che riguarda più il blu perché parla proprio di raffabilizzazione digitale per le nuove generazioni andiamo nelle scuole insieme al ministro Bodi e il ministro Valditara a portare delle digital capabilities ma soprattutto gli diciamo di fare dei contenuti audiovisivi c'è un contest si vince un premio sui valori dello sport quest'anno l'anno scorso abbiamo fatto solo dedicato all'ambiente quest'anno abbiamo abbinato i valori dello sport all'ambiente per fare non soltanto educazione ma anche formazione su temi che avvicinano sempre di più i ragazzi che portiamo i talent di Sky Sport nelle scuole è sicuramente un modo diverso per raccontare la sostenibilità grazie grazie a Sara Varetto a Carlo Cape a Stefano Donnarumma e a Filippo Bettini per essere stati con noi e grazie a tutti voi per aver seguito questo episodio del verde e il blu